Da sempre sostenete la consulenza indipendente, che progetti avete per il 2019 per consolidare la vostra presenza su questo mercato? Sì, in effetti da sempre sosteniamo la consulenza indipendente, da sempre siamo qui a un evento che ormai per noi è prassi consolidato, ci fa sempre grande piacere essere qui. Progetti per il 2019? Sì, li abbiamo annunciati questa mattina, si tratta di un servizio di portafoglio modello fatto in ETF che per la prima volta in Italia e in realtà anche in Europa rendiamo disponibili ai consulenti e quindi il consulente tramite una semplice procedura di iscrizione online può ricevere in maniera continuativa questo servizio, i vari aggiornamenti e può avere ovviamente uno strumento a supporto della sua professione, del suo lavoro e della sua attività con i propri clienti.